benvenuti a tutti sul canale di giochi next gen siamo tornati qui oggi su color video di tre e oggi siamo qui con l'uccisione confermata la mappa è stronghold quindi vediamo subito come va la prima partita no subito morto che miseria bastardo ragazzi abbiamo partito partita iniziata tra l'altro muo' ribassato se inizio no brutto bastardo no da dietro come sempre come sempre questo gioco ragazzi da dietro muo' ribassato che bastardi 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 quel lavoro guardatelo guardatelo bastardo e assist 4 buon altro qua mi hanno ghiacciato dove siete dove vi nascondete bastardo ragazzi sempre da dietro sempre da dietro sempre da dietro di sto pacchi di gioco ragazzi sempre da dietro o rimuori il nuovo se deve mettere l'ultima verità per avere gli occhi anche chi è sui gioco ragazzi ma ecco qua tu le città no bastardo muo' 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 ma quanti cazzi c'erano quanti cazzicini dai 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 eccoci bastardi si doppia doppia uno e due doppia ragazzi dai che diventiamo come non detto ovviamente da dietro rigorosamente da dietro ma guardate quel bastardo la prima parte ragazzi abbiamo perso e vi ricordo che sono andate già a partita entrata quindi ragazzi ci siamo troppo con la seconda partita ok ragazzi eccoci qui tornati con la seconda partita sento decisione confermata e siamo sulla mappa ex souls andiamo oh bastardo eh muo' stavo per fanculo nooo da dietro ragazzi ma le ho detto io ci vorrebbe una modalità che ti permette di vedere da dietro ragazzi sarebbe la restruzione di tutti i problemi di foglio guardate eccoci qui fanculo ma eccoci qui fuori due uno e due preso andiamo ragazzi ci si è confermata doppia no bastardo ragazzi ragazzi non ecco qua andiamo qua andiamo no bastardo che la non ci so ho fatto da acquistrata ragazzi eccoci qui butti bastardo e ma eccolo qui bastardo guarda guarda che bastardo guarda che bastardo guarda che bastardo guarda come sta davvero camperato ma eccolo qua dai vai vai dai vai vai anzi che sotto stiamo vincendo 57 e 33 3 ma ecco oh non amare ragazzi mio compagno mi ha salvato perchè quel bastardo mi aveva puntato una stordente no no da dietro ma basta se maledetti stordenti quanto mi rompono il cazzo più di una maiala che non sia altro e vabbè sempre ragazzi da dietro sempre dalla bisogna capire i tg se ancora stava camperato lì no no mo non vado ma vado vado ma vado 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 ma vado un gioco pino alla vaffa non gira ecco guardate guardate qualche bassa guardate in quanti in tre tutti insieme in tre tutto stanno perdendo la fonte del cazzo camper del cazzo muori vaffanpigli ok ragazzi vittoria questa cosa partita ma ecco qui l'incisione finale ragazzi ok ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se è così fatemelo sapere lasciate un bel like commentate condividete il video come sempre sotto ci sono i miei contatti di facebook twitter instagram i miei di psn e il mio di xbox live se volete aggiungermi qui dal giorno del 83 tutta ci vediamo al prossimo video bella